Come tutti ormai sanno il rapper americano famosissimo Anneli Cioppa si è esibito in Italia Quello che non tutti sanno però è che nelle sue stories Instagram ufficiali C'è finita niente di meno che Cristina Bertevello Ex fidanzata di Chiello in uno stato abbastanza strano perché non riusciva neanche a parlare Quindi essendo in strada probabilmente aveva o bevuto o era sotto qualche sostanza se ne consuma di suo Ma la cosa ancora più divertente è stata che Anneli Cioppa e i membri del suo staff Ci hanno provato con lei in maniera molto insistente e molesta Trattandola quasi come un oggetto Invitandola nel post a serata con loro Non aggiungo altro vi lascio filmati fatemi sapere con un commento più sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video linea allo studio Ehi è rossa ma sei chi è lei? You get her, there you go Sei chi è lui? E non so come prononciare E non è il numero Oh f*** Ehi bro, what's up man? Oh shit I don't know you I don't know you